Un'udienza importante, sì, su questo video che ho diffuso semplicemente perché sono rimasto sconvolto quella sera dall'intervento massiccio, come sapete il 15 gennaio di ormai due anni fa intervennero ben 20 agenti in borghese e non a ristorante chiuso, a ristorante vuoto, insomma tutti sapevano che io avrei aperto, ho sempre aperto rispettando le regole, ho aperto in zona gialla a pranzo con la mascherina, con il distanziamento, rispettando tutte le regole previste di PCM e aprivo anche a cena per una necessità economica chiaramente, c'erano affitti mutui da pagare e aprivo rispettando le regole. Tante volte ho aperto i miei ristoranti e mai ho filmato ciò che accadeva perché intervenivano comunque sempre due o tre vigili nel pieno rispetto delle norme, nel pieno rispetto di quello che è il loro lavoro anche oggi nella nostra quotidianità, quindi da parte mia c'è sempre massima solidarietà per le forze dell'ordine e per quello che fanno, è grande rispetto. Quel giorno 20 agenti, ristorante chiuso, chiaramente ho ritenuto un intervento inopportuno, inadeguato e mi sono sentito di filmare chiaramente ciò che accadeva, anche perché di filmare quello che sarebbe accaduto quella sera e quindi eventuali comportamenti a mio parere sopra le righe da parte del governo che mandava questi agenti in giro per tutta Italia a reprimere questi ristoratori, questi imprenditori, mi era stato chiesto da tanti politici, da Matteo Salvini e da Vittorio Sgarbi, ricordiamoci che Matteo Salvini era il ministro dell'interno qualche anno fa, oggi il vice premier e mi chiedeva proprio lui nelle nostre conversazioni su WhatsApp, nelle nostre chat, appunto di documentare sempre tutto per sostenere l'iniziativa di IoApro. Sono molto ottimista, francamente ho pubblicato un video, ho commentato semplicemente, ho scritto guardate cosa è accaduto questa sera e poi ci sono stati numerosi commenti, chiaramente alcuni a favore e alcuni contro. Questi commenti, alcuni disdicevoli da parte di utenti che poi sono stati riconosciuti dal commissario Badioli, io credo che lui avrebbe dovuto querelare quelle persone e non querelare me perché ho filmato ciò che accadeva all'interno del ristorante. Ero sostenuto chiaramente da Vittorio Sgarbi, da Matteo Salvini e dal centro-destra, anche da fratelli d'Italia che oggi al governo, proprio Matteo Salvini, ex ministro dell'interno e attuale vicepremier, mi chiedeva di documentare e diffondere ciò che accadeva. Quindi siccome io in quel momento ero anche in qualche modo non esponente del popolo, ma mi stavo affacciando anche al mondo della politica nazionale, ho condiviso questo loro pensiero e ho pubblicato sui miei profili, perché poi è un video che è diventato virale, ciò che è accaduto quella sera, ma in quel periodo c'erano centinaia e migliaia di video che riprendevano gli interventi delle forze all'ordine, che non facevano altro che fare il loro mestiere, è chiaro, la mia battaglia è sempre stata contro il governo e contro le restrizioni, che ritenevo inopportuni e adeguate, perché appunto non c'era poi un corrispettivo economico per le imprese. Ricordiamo le oltre 20.000 aziende a tra bar e ristoranti che hanno chiuso negli ultimi due anni nel nostro paese, proprio per le problematiche relative al Covid.